Quello che bisogna temere da Berlusconi non sono le punizioni, sono i premi e il premio piace a molti di noi, non dico a tutti, ma a molti di noi, allora la volutà del premio può anche far tacere certe coscienze, io queste cose le ho già viste in Italia.